Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti ma credibili. Parole cariche di saggezza eppure colui che le ha pronunciate, il giudice Rosario Livatino, aveva solo 37 anni quando è morto. La città di Campobasso ha voluto omaggiare il suo sacrificio nella lotta alla mafia con la mostra itinerante Subtutela Day presentata nell'aula Francesco Colitto all'interno del Palazzo di Giustizia del Capoluogo. Era il 21 settembre 1990 quando Livatino venne ucciso dalla mafia al volante della sua Ford Fiesta Amaranto nei pressi di Canicattì. Un giovanissimo magistrato sconosciuto è più tranne che i suoi aguzzini. Livatino lavorava al tribunale di Agrigento occupandosi principalmente di sequestri e confischie di beni sottratti ai mafiosi. Bastò questo per decretare la sua condanna a morte decisa dagli uomini della Stidda, organizzazione mafiosa dell'Agrigentino. Quattro di loro vennero condannati all'ergastolo. C'è chi a soli otto mesi dalla sua morte lo definì in maniera dispregiativa giudice ragazzino. Papa Giovanni Paolo II invece lo definì martire della giustizia e indirettamente della fede. La mostra riesce anche visivamente a dare contezza di questo sacrificio del giovane collega veramente colpito mentre si recava al lavoro con i suoi documenti giudiziari. Al seguito con la sua agenda dove annotava anche queste sue riflessioni che sono di contatto tra la vita giudiziaria in senso proprio ma anche la vita spirituale che lo animava e che è stata riconosciuta anche dalla Chiesa Cattolica con la beatificazione. Una ispirazione soprattutto per le nuove generazioni che non hanno vissuto quegli anni segnati da una lunga scia di sangue e per questo motivo ancora di più vanno educati alla cultura della legalità. Questo è un messaggio di comportarsi che noi dobbiamo sempre cercare di rispettare la vita. non dobbiamo fare noi che attualmente siamo impegnati nelle vicende attiviziarie ma dobbiamo soprattutto cercare di trasferire questo messaggio, questo mondo a chi viene dopo di noi, alle nuove generazioni proprio perché quell'esperienza così importante nel contrasto alla mafia ma io direi più in generale all'idealità non venga persa. Grazie. Grazie a tutti.